Un corteggiamento esitante e indice di scarso interesse o magari di una personalità indecisa, mentre uno troppo gentile e galante è retro. Ma quando si eccede si commette reato. Volete sapere i reati dei corteggiatori? Eccoli. Fingersi single quando invece si è sposati. Reato di sostituzione di persona, reclusione fino a un anno. Lo stesso dicasi per chi si finge affermato e ricco, o magari si vanta di un posto di lavoro prestigioso che invece non ha. Farsi dare il numero di telefono da un'altra persona e trattamento non autorizzato di dati personali. Tentare di baciarla senza lasciarle una via d'uscita, ad esempio cingendole la vita o tenendola dal collo, è violenza sessuale. Mandarle troppi messaggi anche in un solo giorno e molestie telefoniche. Pedinarla, farsi trovare ovunque, in palestra, sotto casa, all'uscita del lavoro e stalking, attenzione. Il reato scatta quando la vittima si sente minacciata, viene presa dall'ansia e magari costretta a cambiare le proprie abitudini di vita e per la prova è sufficiente la stessa dichiarazione della vittima. Farle la serenata, reato di disturbo della quiete pubblica e se entrate nel suo giardino c'è anche il reato di violazione di domicilio. Inviarle foto non gradite in costume ad amitico, molestie telefoniche. Complimenti e fischi e cutcalling, ossia molestie in luogo pubblico. Chi dice bugie fingendosi innamorato per adescare una ragazza con meno di 16 anni commette adescamento di minore. La legge punisce infatti i raggiri e le lusinghe volti a carpire la fiducia della ragazza per portarla a letto. Se poi il corteggiamento va a buon fine, ma la ragazza a meno di 14 anni c'è reato di atti sessuali con minori. Se invece ne ha 14 o di più, non conta la differenza di età, non si commette mai reato. E se lei mente sulla proprietà, bisogna avere l'ardine di farsi consegnare la carta d'identità perché non è affidandosi alle apparenze che ci si può giustificare. Eccezionalmente, una tredicenne può avere rapporti con un diciassettenne, ma mai con una persona più grande. Infine, si rischia il reato di atti osceni in luogo pubblico se ci si apparta in luoghi abitualmente frequentati da minori, come ad esempio un parco giochi seppur di notte, o magari un parcheggio vicino a una scuola. Negli altri casi, il comportamento costituisce il lecito amministrativo per il quale si rischia una sanzione da 5.000 a 30.000 euro. Questa è la legge.